vi chiederete come mai dopo aver parlato di Sanremo rispetto alla polemica sulla presenza o meno di Zeleschi adesso torno a parlare di Sanremo ma anche perché Sanremo inizierà nelle prossime ore di canzoni si sta parlando oggettivamente molto poco e si sta parlando invece di questioni che sono annesse e connesso alla partecipazione anche a cantanti che sollevano alcune perplessità in particolare c'è un rapper che si chiama Rosa Chimicol che è stato additato dalla deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante perché cito testualmente porterà a Sanremo come lui stesso affermato il sesso l'amore poligamo e il porno su OnlyFans ma in particolare tutto viene fuori perché c'è appunto una polemica molto seria sul concetto di gender fluid cioè su questo meccanismo complesso che non è l'identità di genere è stato spiegato da più esperti e anche qui vorremmo ribadirlo ma è un po' questa tendenza delle giovani generazioni ad accoppiarsi con persone indipendentemente dal loro sesso e indipendentemente dal sesso dell'altro è un fatto diciamo che propone nell'era che Bauman definiva dell'amore liquido questa fluidità nei rapporti ecco tutto potrebbe esaurirsi nella richiesta di eliminare la partecipazione poi come accadrà quasi come accaduto quasi sempre anche in passato e come accadrà anche questa volta sicuramente il rapper canterà la sua canzone tirandosi dietro le polemiche guadagnandosi delle simpatie ma anche delle antipatie ma la cosa che sinceramente da sociologo che è molto spesso vicino alle nuove generazioni studia le nuove generazioni la cosa che più mi preoccupa è questa superficialità nell'affrontare un tema come quello del gender fluid che invece dovrebbe essere affrontato a tutti i livelli istituzionalmente ma soprattutto dovrebbe dare degli strumenti alle scuole che in questo momento si trovano ad affrontare qualunque tipo di emergenza educativa su questa cosa non si stanno facendo discorsi seri si affronta la situazione con molta superficialità e come dice un filosofo dell'università di messina siamo nell'era del superficialismo e in quest'era del superficialismo una questione così delicata che riguarda i nostri ragazzi che riguarda il futuro dei nostri ragazzi e su quello che loro pensano rispetto al proprio corpo rispetto alla propria identità sessuale rispetto al loro modo di vivere qualunque tipo di rapporto sentimentale o sessuale o di approccio di amicizia tutto questo invece non ci preoccupa minimamente ecco io credo che al di là del fatto di sanremo bisognerebbe andare un po oltre e cercare di capire che cosa sta accadendo alla nostra società cosa sta accadendo ai nostri ragazzi e farci qualche domanda da persone adulte che non può essere limitata ai giorni di sanremo ma che deve essere invece una costante nel garantire un'educazione che sia all'altezza dei tempi